Il Doppio Petto È sempre un piacere di vedere Armani, che è una legenda nell'industria, e vedere lui ogni anno con qualcosa così spettacolare. Un sentito incredibile, ma anche di essere molto classico e molto mascolino. Mi piace. E' molto bello. Non sono un esperto nel mondo del fashion, ma sicuramente sono un fan e un ammiratore del design, e da quello che ho visto ho davvero piaciuto. Ci sono sicuramente alcuni piacere che sicuramente sarò per la prossima season. Ho trovato proprio la costruzione molto diretta, molto chiara, senza fronzoli. Grazie.